Salve amici appassionati di Football Manager, qui con voi come sempre c'è il Mec94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui nel nostro Football Manager 2017 con il nostro mitico Reus e oggi andremo a vedere il nostro esordio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Andremo a vedere una sola partita perché ci sono tante tante cose da dire, soprattutto anche per quanto riguarda il mercato Quindi oggi andrà così, poi ovviamente nei prossimi episodi andremo a vedere tre partite Questo perché dobbiamo andare un po' più velocemente, visto che poi uscirà FM 2018 e inizieremo una nuova carriera Parliamo in primis ovviamente della Champions League, abbiamo beccato la squadra d'Ucraina, il Milan e il Manchester City Girone non proprio facilissimo, però ci poteva andare sicuramente peggio Lo Shakhtar è una buona squadra, ha messo in difficoltà il Napoli, o meglio l'ha proprio battuto nella realtà Il Milan non è il Milan aggiornato perché siamo in FM 2017, ma ugualmente un'ottima rosa E poi c'è il Manchester City che è la squadra più forte di questo girone, squadra che sarà veramente molto molto difficile da battere E per me già sarebbe ottimo arrivare terzi perché significa Europa League, ma c'è anche l'incognita di questa squadra ucraina Che ci può mettere in difficoltà anche perché ha molta più esperienza di noi in Champions, visto che non l'abbiamo mai giocata E quindi dovremo vedere Ripeto, girone non facilissimo ma nemmeno impossibile perché se andiamo a vedere, soprattutto il gruppo A C'è Liverpool, PSG, Steaua e Bayern Mono Che immaginatevi se al posto dello Steaua pescavano noi, era finita praticamente E poi Lipsia, Madrid, Roma, Lisbona Inter, Barcellona, Arsenal, Praga Porto, Besiktas, Bruges, Zenit, proprio girone della vita United, Monaco, Anderlecht e Fairwood Juventus, Dortmund, Basilea e Bate Juventus abbastanza fortunata City, Donets, Milan Reus, il nostro Madrid, Benfica, Salzburg e Sofia Pure il Real Madrid, parecchio, parecchio, fortunato Dopo la Supercoppa contro il Real Madrid abbiamo giocato tre partite Come già vi ho detto ragazzi me ne salterò molte Ad esempio già nel prossimo episodio andremo a vedere Milan, City, Siviglia Saltandovi bene cinque partite ma lo devo fare per forza E spero che vi sia piaciuta la finale Non ho ancora visto i commenti perché sto registrando questo video prima Appena ho un buco di tempo registro Sia perché voglio andare avanti perché mi sta piacendo molto questa squadra Sia perché sono mesi oramai che sono un po' incasinato Comunque spero che vi sia piaciuta questa partita Queste partite Abbiamo battuto il Malaga 2-0 Doppietta di Teio Abbiamo vinto 2-1 contro il Getafe Gol di Teio e Simeone 1-0 il Real Sociedad Gol di Simeone con assist di Douglas Veramente bella assist, bella partita E niente Ho visto anche i commenti sul mercato C'è chi ha apprezzato molto Simeone insieme a Kagawa Chi apprezza un po' di più ne credo Diciamo che ho visto anche qualche commento su Teio Non a tutti piace E infatti mi avete fatto un po' di dubbi Però sinceramente ragazzi Per me può far veramente benissimo Ha già fatto 4 golle nelle sue prime gare ufficiali Quindi ha fatto un gol a partita No, quasi un gol a partita Quindi secondo me se continua così Può far veramente bene Ed è stato un vero e proprio colpaccio Per quanto riguarda lo staff ragazzi Avevo detto sì che non avrei preso altri elementi Ma purtroppo ci hanno preso neri E quindi lo dovevo sostituire Ho preso questo Eduardo Maia 4 stelle Per quanto riguarda la forma fisica Quindi è veramente un ottimo preparatore atletico E quindi sono contento di averlo preso Mi trovavo lì e quindi ho detto Vabbè prendiamo un altro elemento E ho preso Paul McGuinness Che è veramente molto molto valido 18 in difesa Infatti 4 stelle anche in questo reparto Ottimo così Avrei potuto prendere anche un altro per l'attacco Però ragazzi sinceramente Ripeto Mancano gli ultimi mesi Quindi non vale più la pena Spendere tempo e soldi Per lo staff Visto che ripeto A breve finirà questa carriera Per quanto invece riguarda il mercato Ragazzi C'è stata una cessione E due acquisti E la cessione È un giocatore che L'anno scorso ha giocato da titolare Era abbastanza forte Però come già avevo detto Ha avuto un grosso calo In queste vacanze E quindi aveva pure perso la titolarità E quindi ho preferito vendolo Anche perché ci è arrivata Una buona offerta È la cessione di Emiliano Vecchio Giocatore venduto al porto A 3 milioni e mezzo circa Quindi ci abbiamo guadagnato 3 milioni Visto che l'avevamo pagato 375 mila euro Un'offerta che non si poteva rifiutare Per un giocatore che sicuramente Molto molto valido Però ha detto il suo Poi stava un po' in calo Quindi ho detto Meglio così Ci risparmiamo un po' di soldini Ci guadagniamo altri soldini E lo sostituiamo Comunque con un giocatore Un po' più forte Giocatore che ho visto In questo O'War Presi in prestito da Lione Paghiamo veramente Una miseria L'ingaggio Solamente 80 mila euro È già molto più forte Di vecchio ragazzi Fisicamente Mentalmente Tecnicamente Cioè 14 14 e 14 Per le qualità più importanti Per il centrocampista offensivo E quindi veramente Un giocatore molto molto importante L'ho preso Sia perché ci abbiamo risparmiato Visto che è un prestito Abbiamo guadagnato 3 milioni e mezzo Così E quindi Non abbiamo speso niente Ci risparmiamo l'ingaggio Visto che vecchio Prendeva sicuramente Di più rispetto Al francesino Il francesino È più forte di vecchio E soprattutto Può fare il falso 9 Lo può fare anche molto bene Addirittura a finalizzazione 15 Quindi nel caso in cui Teio fallisce Fa schifo E anche se Ha iniziato veramente Alla grande Quindi la vedo molto dura Potremmo sicuramente Mettere il francesino Che promette veramente Tanto tanto bene Ma è già veramente Un grandissimo giocatore Poi ripeto Non abbiamo pagato niente L'ingaggio è una miseria Quindi per me È un ottimo colpo Non so se vi ricordate Ci serviva un jolly in difesa O meglio Io lo volevo prendere Quindi L'ho cercato Ho cercato un giocatore Che potesse fare Sia il difensore centrale Sia il difensore sinistro Avevo preso Miangue dall'Inter Però Sinceramente No Sì Andato poi al sassuolo E L'avevo preso Poi ho terminato il prestito Questo perché ragazzi Perché ho trovato un giocatore Ma Tipo Due tre spanne sopra Che non può fare Il difensore centrale Può fare però Terzino destro Terzino sinistro Centrocampista centrale Può giocare su tutta la fascia destra E sì In teoria può fare anche Il difensore centrale Ma non lo farei mai Giocare lì È alto un metro e sessantanove A colpi di testa otto Quindi Mai nella vita Però ragazzi Per me questo è un grandissimo colpo Trent Alexander Arnold Segnato di questo nuovo Perché è veramente Fortissimo E Per lo staff È già più forte di Douglas E guadagna meno della metà Della metà Della metà Del brasiliano Preso ripeto A zero In prestito Da Liverpool Per me è veramente Un vero e proprio Colpaccio Ora mi direte Sì Mike Ma non è il jolly Che ci serviva Perché non può fare Il difensore centrale E qui vi sbagliate Perché la mossa Qual è stata Arnold Visto che è così forte Sarà la prima riserva Dei terzini Quindi cambiano un po' Le gerarchie Prima riserva Dei terzini Arnold Poi c'è Nobleas E poi c'è Billy Jones Che sarà lui Il nostro jolly In quanto Può essere terzino Però in calo Quindi Non poteva essere La prima alternativa Di Douglas Proprio per questo Ho preferito Prendere Arnold E in più Può anche giocare Come difensore centrale In quanto È alto un metro e 83 Ha 12 colpi di testa Ha ottimo contrasto Ha ottimo marcatura E lo sto allenando Come difensore centrale Quindi come jolly È veramente ottimo In più Nel contratto Ha riserva Quindi sa che Non giocherà Quasi mai Proprio per questo Ho fatto questa mossa Anche perché È già un po' in calo Ma me lo aspettavo A 31 anni E quindi Per me è un gran colpo Ragazzi E ripeto Avendo tante competizioni Cercando di Vincere il campionato Ci servino anche Ottime riserve E questo Arnold È veramente Tanta tanta roba Tant'è che Già l'ho messo Adesso in Champions E tant'è che Potrebbe anche Primo o poi Prendere il posto A Douglas Vedremo Abbiamo ancora 22 milioni Mica pizze e fighi Però perché Non li ho spesi Sia perché Comunque non c'erano Grandi giocatori Sul mercato E sia perché Ovviamente C'è ancora Gennaio Lì potremmo Prendere altri Due o tre campioni Per concludere La cavalcata Sperando di fare Un anno Più che decente Gioca con Costil Silva, Cema Babic, Douglas Jovictor, Guzzo Joe Smith Kagawa, Teio Simeone Loro con Piatov, Rui Rakitiski Kristov, Sna Van de Beek Stefanenko Viska Kovalenko Tyson e Martinez Non sarà affatto Facile Noi come sempre Ce la metteremo Tutta Parto col contropiede Perché raga E' un campo Molto difficile Quest'Ucraino Dove appunto E' caduto anche Il Napoli E quindi Dovremmo stare Molto 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 Attenti E in più Possiamo anche dirlo E' una nostra Diretta concorrente Avversaria Per il terzo posto Per arrivare In Europa League E devo dire La verità Questa partita Come esordio In Champions E' un po' Troppo tosta Perché il campo E' difficile Perché l'esordio E il Reus Non è mai stato In Champions League Molti dei giocatori Che abbiamo Non sono mai stati In Champions League Però Vediamo un po' Come ci comporteremo Intanto Bella la parata Qui dico still Ma Mi sa che Devo subito dire Concentratevi E Molti di voi Mi diranno Perché hai preferito Simone a Negreto Negreto L'esperienza In Champions League Avete ragione Però ragazzi Simeone E' importante Per la nostra squadra E Deve sentire Che ci fidiamo di lui Intanto qua Simeone Intanto sta per segnare E quindi L'ho messo titolare Proprio per Fargli capire Che ci fidiamo di lui Per quanto invece Riguarda le scelte In Champions League Visto che Potevamo mettere Solamente 21 giocatori Non ho messo Merino Awar E Bielic Bielic Perché semplicemente Che è il Difensore centrale Che abbiamo preso Dall'Arsenal Può essere sostituito Appunto da Billy Jones Che può giocare Appunto come difensore centrale E come terzino Intanto attacchiamo Con Joe Smith Questa al centro C'è Teio Teio la passa Joe Smith Joe Smith Per Teio 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 Per Douglas Douglas Per Kagawa Kagawa Per Douglas 1-0 Sperando che non sia fuori gioco Mi sa di no Ottimo così E in più Non ho messo Merino E non ho messo Che sta succedendo Non ho messo Awar Perché ho preferito Alex Garcia Perché Alex Garcia ragazzi Può giocare ovunque A centrocampo Come trequartista Come falso nove E quindi ho preferito Mettere lui Rispetto a quei due Ho preferito anche Mettere Di Gard A posto di Merino Perché non abbiamo Incontristi Se non lui E Joe Victor Gosling può giocare Come regista Può giocare come centrocampista E quantità Ma non come incontrista Per aver questo Alcune scelte Sono state obbligatorie Ma vi dico anche Che essendo giocatori In prestito Che Attacca lo Shakhtar Shakhtar Meno male Essendo giocatori In prestito Essendo giocatori Che sono in turn over Ehm Non si sono lamentati Perché più o meno Sapevano già Che avrebbero fatto Questa fine Oggi mi è presa La chiacchiera E sto parlando Un casino Però è giusto Per non fare un video Di 60 anni Che durante la partita Vi spiego Che cosa è successo Tanto oramai Conoscete il mio tipo di video Non vi faccio Tanto la telecronica Ma vi descrivo Un po' Cosa sta succedendo E adesso C'è il rigore di Del Shakhtar Donets Costil Facci il miracolo Mannaggia a te Douglas Ci segni Però poi Io metto offensiva Per la scaramanzia Sernà Si è addormentato Gli avete fatto l'antidoping? Bastardi Bastardi Noi l'hanno fatto Non gliel'hanno fatto Un a uno Peccato Peccato Veramente Però Però vabbè Anche il pareggio Ci andrebbe più che bene Sarebbe importante Non perdere Adesso che l'ho detto Ci segnano Però Sarebbe bello Mettiamoci in egreto Che può fare anche il trequartista Non è proprio il suo ruolo Però Vediamo un po' Cosa riesce a fare Mi sa che è finita Non è proprio L'esordio Della vita Ma potrebbe andare Sicuramente peggio C'è Gosling C'è Joe Victor C'è Douglas Cross al centro C'è Simeone C'è Guzzo Spare in avanti C'è Cema Joe Victor Che sia finita Guzzo Guzzo per Gosling Joe Victor Bello il pallone Per Negredo Negredo Per Guzzo Guzzo Per Gosling Gosling Ancora Vuole la botta Sì peccato E vabbè E' andata raga Comunque sono abbastanza contento E' un punto importante O meglio E' più importante Che non abbiamo fatto fare I due punti allo Shakhtar Donets E E poi ripeto Per me Se devo scegliere Fra Champions E campionato Tutta la vita Campionato Questa senza Ombra di dubbio Quindi Io non direi niente Ragazzi Comunque è andata abbastanza bene Il Milan ha perso Siamo secondi Ma vabbè Ci sono ancora Cinque partite da giocare Esordio Non direi amaro Ragazzi Perché comunque Possiamo essere più che Che contenti Dai Su via Comunque Non le possiamo vincere tutte Per me E' già un ottimo Così Insomma E poi Le prossime saranno Milan e City Due belle mazzate Però Potremmo provare A giocarci Soprattutto contro il Milan Detto questo ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Spero che il mercato Soprattutto vi sia Piaciuto L'esordio non è stato proprio Eclatante Però Meglio di niente Detto ciò Mi raccomando Bomba con i commenti Bomba con i like Bomba con le condivisioni E come sempre Un saluto a Mike94 Ovviamente anche da Football Manager Italia Ciao ragazzi